Anche questa relazione che io definisco a tutti gli effetti una relazione, anzi è una della relazione con i miei follower che forse mi consuma più tempo di tutte le altre per quanto sia una relazione virtuale, invece ho cresciuto anche quella e si è evoluta. Strappare 5 minuti di un sorriso a un'infermiera che si è fatta un b***o tanto tutto il giorno con i solchi della mascherina, i solchi dei guanti, la pelle verde perché non prendi un raggio di sole mai, per me questo gioco va alla candela. Perché non c'è niente in questo momento di più reale del mondo virtuale e questa è una cosa che mi fa venire i brividi e io devo dire di aver tirato un grosso sospiro di sollievo perché ho vinto una battaglia contro me stesso che era quella che forse mi ha sempre fatto più paura di tutte le altre che è la solitudine. In questa quarantena ho capito che io ho due palle così e me lo dico da solo e mi do anche, come dico in Inghilterra, a pat on the back. Grazie. 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 Grazie.